Ciao a tutti, oggi sono un senza tetto, metterò 100 euro finti dentro la ciotolina e mi piazzerò davanti alle scuole. Come la prenderanno i ragazzi? Come la prenderanno i ragazzi? Come la prenderanno i ragazzi? Grazie ragazzi, siete onesti, è un esperimento sociale. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.